Ciao, ciao, sono Enzo di Merola, mando un caro saluto all'amico Bennu Siciliano e mando tanti auguri di un buon Natale a te, Jenny, che è tutta la bella Palermo, ok? Ciao, ti auguro di starmi bene, ciao! Un bacio forte forte al mio amico Bennu Siciliano, buona immacolata a tutti quanti voi, un bacio forte forte da Gianni Nani, ciao a tutti! Ragazzi, un bacio forte e un saluto all'amico Bennu Siciliano e all'amico Franco Cacioppo, un bacio dal vostro amico Rosario Donate, ciao ragazzi! Ciao a tutti voi amici di Facebook, oggi voglio mandare un grandissimo saluto di vero cuore a Franco Cacioppo e a Bennu Siciliano, il numero uno, il numero uno di tutta la Sicilia, persone veramente umili e dignitose. Da Napoli col cuore, va bene? Un fortissimo abbraccio a voi con le vostre estimate famiglie Franco Cacioppo e Bennu Siciliano, la sabio Donate, le tengo sempre in due cuore, va bene? Dal Vesuvio all'Etna, Napoli-Palestina. Cari sogno, nella casa di un ben mio siciliano, vi auguriamo buone feste a tutti, e grazie a signora Nandina, un bacione, cari signori, ma, salate a tutti, a tutti gli amici di tutto il mondo, ma, Adonai, ha... Grazie.